dialogo delle lingue interlocutori bembo lazaro corteggiano scolare lascari peretto io odo dir messer lazaro che la signoria di venezia va condotto a legger greco e latino nello studio di padova è vero questo lazaro monsignor sì che provisione è la vostra trecento scudi d'oro messer lazaro io me n'allegro con voi con le buone lettere e con gli studiosi di quelle con voi prima però che io non so uomo nessuno della vostra professione che andasse presso a quel segno ove siete arrivato con le buone lettere poi le quali da qui inanzi non mendicheranno la vita loro povere e nude come sono ite per lo passato m'allegro è zian dio con lo studio e gli studiosi di padova cui finalmente è tocco in sorte tale maestro quale lungo tempo hanno cercato e desiderato ma io v'avviso che egli vi bisognerà sodisfar non tanto all'immenso desiderio che hanno gli uomini d'imparare quanto ad una infinita speranza che sa di voi e della vostra dottrina il che fare nuova cosa non vi sarà così sete usato da affaticarvi e con le vostre lodevoli fatiche operar gloria in voi e in altrui vertù monsignor sempre mai ono pregato domenedio che mi dia grazie e occasione una volta di far conoscere al mondo non quel poco che io so ma il valore e l'eccellenzia di queste due lingue le quali gran tempo sono state sprezzate da chi doveva adorarle ora che dio la mia conceduta ho speranza di fare che molti uomini di qualunque età e nazione lasciati gli altri studi d'accanto tutti a questo uno si doneranno come a quello che veramente po' loro far gloriosi chiunque vi conosce porta cotale opinione di voi ma per certo noi siamo giunti a tempo che pare che il male lungamente da noi sofferto voglia iddio a qualche modo ricompensarci però che in iscambio delle molte possessioni e città dell'Italia le quali occupano gli oltramontani egli ci ha donato l'amore e la cognizione delle lingue in maniera che nessuno non è tenuto filosofo che non sa greco e latino perfettamente onde egli è strana e bella cosa il vederci continuamente vivere e parlare con barbari e non aver del barbaro né solamente queste due nobilissime lingue ma la toscana poco men che perduta quasi pianta carinovelle è rifiorita di nuovo si fattamente che di breve più d'un petrarca e più d'un boccaccio vi si potrà numerare la ebrea similmente comincia ad essere in prezzo perché a me pare quando vi guardo che questo sia un certo influsso del cielo si fieramente ognuno si dà nello studio delle lingue il quale solo fra tutti gli altri ci fa immortali per fama degna cosa da credere che il cielo abbia curato altre volte e curi ancora della greca e della latina per la eccellenzia di queste lingue ma di quelle altre né il cielo ne accura né deno averne immortali ai quali né onore né utile non può recare il parlar bene alla maniera del vulgo egli è ben vero che tanto più volentieri si dovrebbe imparare la lingua greca e la latina che la toscana quanto di questa quelle altre due sono più perfette e più care ma che la tosca sia da sprezzare del tutto per niente lo direi parte per non dire bugia parte per non parer d'aver perduto tutto quel tempo che spender volle in apprenderla dell'ebrea io non ne son nulla ma per quello che io hanno da dire quanto la latina e gli italiani altro tanto o poco meno istima lei la germania a me pare quando vi guardo che tale sia la volgar toscana per rispetto alla lingua latina quale la feccia al vino però che la volgare non è altro che la latina guasta e corrotta oggi mai dalla lunghezza del tempo o dalla forza de barbari o dalla nostra viltà per la qualcosa gli italiani li quali allo studio della lingua latina la volgare a on te pongono o sono senza giudicio non discernendo tra quel che è buono e non buono o privi in tutto d'ingegno non son possenti di possedere il migliore onde quello non avviene che noi veggiamo avvenire d'alcuna umana complessione la quale scema di vigor naturale non avendo vertù di fare del cibo sangue onde viva il suo corpo quello in flemma converte che rende lo uomo da poco e nelle proprie operazioni il fa essere conforme alla qualità dell'umore ma egli si vorrebbe dare per legge ad ognuno a volgari non parlare latinamente per non diminuir la reputazione di questa lingua divina alliterati che mai da loro se non costretti d'alcuna necessità non si parlasse volgare alla maniera degli ignoranti a ciò che il vulgo arrogante con l'esempio autorità dei grandi uomini non prendesse argomento di far conserva delle sue proprie brutture e ad arte ridurre la sua ignoranzia corteggiano messer lazaro qui tra noi ditene il male che voi volete di questa lingua toscana solamente quello non fate che fece l'anno passato messer romolo in questa città il quale orando pubblicamente con tante e tali ragioni biasimoco tal lingua cora fu che inanzi arei tolto d'esser morto famiglio di cicerone per aver bene latinamente parlato che viver ora con questo papa toscano se io credessi bisognarmi persuadere a scolare di padova che la lingua latina fosse cosa da seguitare da fuggir la toscana o io non vanderei a legger latino o spererei che delle mie lezioni poco frutto se ne dovesse pigliare che da se stessi non conoscendo giudicherei che essi mancassero d'intelletto non sapiendo distinguere tra principi per sé noti e tra le conclusioni il quale difetto non ha rimedio nessuno onde io vi dico che piuttosto vorrei saper parlare come parlava marco tullio latino chesser papa clemente e io conosco di molti uomini che per esser mediocri signori si contentarebbono d'esser muti già non dico ch'io sia uno di questo numero ma dico bene e dicolo con vostra grazia poiché il difetto è del mio poco intelletto io non vedo per qual ragione debba l'uomo apprezzare la lingua greca nella latina che per saper le sprezze mitre e corone che se ciò fosse stato sarebbe di maggior dignità il canevaio e il cuoco di de mostene e di cicerone che non è ora limperio e il papato non creggiate che messer lazaro brami solamente la lingua latina di cicerone la quale era comune a lui e agli altri romani ma insieme con le parole latine egli desidera l'eloquenzia e la sapienzia di lui che fu sua propria e non d'altri la quale tanto più eccellente d'è riputarsi d'ogni mondana grandezza quanto all'altezza de principati si sale per successione o per sorte ove a quella delle scienzie monta l'anima nostra non con altre ali che con quelle del suo ingegno e della sua industria io son nulla per rispetto a que gloriosi ma quel poco che io ne so delle lingue non lo cangerei al marchesato di mantova io non credo monsignor mio che voi creggiate che molti de senatori e de consulari di roma non che tutta la plebe così latino parlasse come facea marco tullio ali cui studi più fu roma obbligata che alle vittorie di cesare onde io dissi e ora dico di nuovo che più istimo e ammiro la lingua latina di cicerone che l'imperio d'augusto delle laudi della qual lingua parlerei al presente non tanto per soddisfare al desiderio di questo gentiluomo da bene quanto perchè io sono obbligato di farlo ma ove voi sete non si conviene che altri che voi ne ragione e chi facesse altramente farebbe ingiuria alla lingua e egli sarebbe tenuto prosontuoso questo ufficio di lodar la lingua latina per molte ragioni dè esser vostro parte per esser già destinato ad insegnarla pubblicamente parte per esserle più partigiano che io non sono io il quale non li stimo cotanto sì che però io dispregi la volgare toscana e anche io non la preposi se non ad un marchesato ove voi l'avete messa di sopra all'imperio di tutto il mondo dunque a voi tocca illodarla che lodandola sarete grato alla lingua alla quale il nome vostro e la fama vostra è grandemente obbligata e con questo buon gentiluomo cortesemente operarete il quale dianzi non si curò di confessare davèr anzi dello scerno che no per udir voi ragionar della sua eccellenza e io poi che volete così volentieri la loderò con patto di poter insiememente biasimarla volgare se voglia me ne verrà senza che voi labbiate per male son contento ma sia il patto comune che quando voi vi tuperarete io possa difendere voglia tieri ma a voi gentiluomo dico ch'io posso bene incominciare a lodare la buona lingua latina rendendovi la ragione perch'io la preponga alla signoria del mondo ma finire non veramente tanta ho da dire intorno a questa materia non pertanto mi rendo sicuro che quel poco ch'io ne dirò vi persuaderà ad esserle molto più amico che voi non siete al presente alla corte di roma questo voi farete da poi ora io voglio per la mia parte che qualora cosa direte che io non intenda interrompendo il ragionamento possa pregarvi che la chiariate son contento dunque senz'altro proemio fare io dico incominciando che quantunque in molte cose siamo differenti dagli bruti animali in quest'una principalmente ci discostiamo da loro che ragionando e scrivendo comunichiamo l'un l'altro il cor nostro la qualcosa non possono fare le bestie dunque se così è quegli più diverso sarà dalla natura dei bruti il quale parlerà e scriverà meglio per la qualcosa chiunque ama ad esser uomo perfettamente con ogni studio dè cercare di parlare e scrivere perfettamente e che ha vertù di poterlo fare ben si può dire a ragione lui esser tale fra gli altri uomini quali sono gli uomini i stessi per rispetto alle bestie la qual vertù di parlare e di scrivere i greci e latini quasi ugualmente s'appropriarono onde le loro lingue vengono ad esser quelle che sole tra tutte l'altra del mondo ci fanno diversi per eccellenzia dalle barbare e dalle irrazionali creature e è ben dritto con ciò sia cosa che tra poeti volgari niuno ven abbia il quale a giudicio di fiorentini possa agguagliarsi a virgilio né ad omero né tra gli oratori ad emostene o a marco tullio lodate quanto volete il petrarca il boccaccio voi non sarete si arditi che né uguali però né inferiori troppo vicini gli facciate agli antichi anzi da loro tanto lontani li troverete che tra quelli non sarete osi da annoverargli ora non voglio nominar d'uno in uno i scrittori greci e latini di grande eccellenzia che io non ne verrei a capo in un mese ma son contento di queste due coppie troverassi a costoro in altra lingua il cumpare dirò di me mai non sono di sì re a voglia e sì tristo che leggendo i loro versi e loro azioni non mi rallegri tutti gli altri piaceri tutti gli altri diletti feste giuochi suoni canti vanno dietro a questuno né dè uomo a meravigliarsene però che gli altri solazzi sono del corpo e questo è dell'animo onde quanto è più nobile cosa l'intelletto del senso tanto è maggiore e più grato questo diletto di tutti gli altri ben vi credo ciò che dicete però che qualunque volta io leggo alcune novelle del nostro boccaccio uomo certamente di minor fama che cicerone non è io mi sento tutto cangiare massimamente leggendo quella di rustico e dalibec da latiel di peronella e altre cotali le quali governano i sentimenti di chi le legge e fanno fargli al lor modo per tutto ciò io non direi dover uomo arguire leccellenzia d alcuna lingua piuttosto credo la natura delle cose descritte avere vertù di mutare il corpo e la mente di chi legge questo no ma la facondia è sola o principale cagione di far in noi così mirabili effetti e ch'egli sia il vero leggete virgilio volgare latino omero e il boccaccio non toscano e non faranno questi miracoli dunque messer lazaro dice il vero quando di tali effetti pone la cagion nelle lingue non prova per questo la sua ragione non si dover imparar altra lingua che latina e greca però che se la nostra volgare oggi dì non è dotata di così nobili autori già non è cosa impossibile che ella nabbia quando che sia poco meno eccellente di virgilio ed omero cioè che tali siano nella lingua volgare quali sono costoro nella greca e nella latina quando egli avverrà che la lingua volgare abbia i suoi ciceroni i suoi virgini i suoi omeri e i suoi demostheni allora consiglierò che ella sia cosa da imparare come è ora la latina e la greca ma questo mai non sarà con ciò sia cosa che la lingua non lo patisce per esser barbara sì come ella è e non capace né di numero né di ornamento che se que quattro non che altri rinascessero un'altra volta e con l'ingegno e con la industria medesima con la quale latinamente poetarono e orarono parlassero e scrivessero volgarmente essi non sarebbero degni del nome loro non vedete voi questa povera lingua avere i nomi non declinabili i verbi senza coniugazione senza participio e tutta finalmente senza nessuna bontà e meritamente per certo conciò sia cosa che per quello che io no da dire da suoi seguaci la sua propria perfezione consiste nel dilungarsi dalla latina nella quale tutte le parti dell'orazione sono intere e perfette che se ragione mancasse di biasimarla questo suo primo principio cioè scostarsi dalla latina è ragione dimostrativa della sua pravità ma che ella mostra nella sua fronte d'aver avuto la origine e l'accrescimento da barbari e da quelli principalmente che più odiarono li romani cioè da francesi e da provenzali da quali non puri nomi i verbi e gli adverbi di lei ma l'arte ancora dell'orare del poetare sì si derivò oh glorioso linguaggio nominatelo come vi piace solo che italiano non lo chiamate essendo venuto tra noi d'oltre il mare di là dall'alpi onde è chiusa l'italia che già non è propria di francesi la gloria che stati ne sieno inventori e crescitori ma dall'inclinazione dell'imperio di roma in qua mai non venne in italia nazione nessuna sì barbara e così priva d'umanità unni gottii vandali longobardi ch'agguisa di trofeo non vi lasciasse alcun nome o alcun verbo di più eleganti ch'ella abbia e noi diremo che volgarmente parlando possa nascere cicerone a virgilio veramente se questa lingua fosse colonia della latina non oserei confessarlo molto meno il dirò essendo lei una indistinta confusione di tutte le barbarie del mondo nel quale caos prego dio che mandi ancora la sua discordia la quale separando una parola dall'altra e ognuna di loro mandando alla propria sua regione finalmente rimanga a questa povera italia il suo primo idioma per lo quale non meno fu riverita dalle altre province che temuta per le armi io veramente poco ho letto di queste cose volgari e guadagnato parmi davere assai imperdere di studiarle che egli è meglio non le sapere che saperle ma quante volte per mia disgrazia no alcuna veduta altretante meco medesimo ho lagrimato la nostra miseria pensando fra me quale fu già e quale è ora la lingua onde parliamo e scriviamo e noi vedremo giammai cicerone o virgilio toscano piuttosto rinasceranno schiavoni che italiani volgari salvo se per gioco non si dirà in quel modo che i servi fanno il lor re e i prigionieri lor podestà ma tal virgilio e tal cicerone mori e turchi possono aver nelle lor lingue però parlando una volta con un mio amico che molto ben sintendea della lingua arabesca mi ricordo udir dire che a vicenna avea composte di molte opere le quali si conoscevano esser sue non tanto all'invenzione delle cose quanto allo stile nel quale di gran lunga avanzava tutti gli altri scrittori di quella lingua eccetto quello dell'alcorano dunque come proporzionevolmente a vicenna si direbbe marco tullio fra gli arabi così confesso dover nascere anzi esser già nato e forse morto il virgilio volgare ma dico bene che tal virgilio è un virgilio dipinto ma il buono è il vero virgilio il quale lasciando l'ombre daccanto doverebbe l'uomo abbracciare ha la lingua latina come la greca ha omero e facendo altramente siamo a peggior condizione che non sono gli ultramontani li quali essaltano e riveriscono sommamente la nostra lingua latina e tanto ne apprendono quanto possono adoprar l'ingegno il quale se pare in loro fosse al disio mi rendo certo che di breve la germania e la gallia produrrebbe di molti veri virginii ma noi altri suoi cittadini colpa e vergogna del nostro poco giudizio non solamente non l'onoriamo ma a guisa di persone sediziose tuttavia procuriamo di cacciarla della sua patria e in suo luoco far sedere questaltra della quale per non dir peggio non si sa né patria né nome a me pare messer lazaro che le vostre ragioni persuadano altrui a non parlar mai volgarmente la qualcosa non si può fare salvo se non si fabbricasse una nuova città la quale abitassero i litterati ove non si parlasse se non latino ma qui in bologna chi non parlasse volgare non arebbe chi l'intendesse e parrebbe un pedante il quale con gli artigiani facesse il tullio fuor di proposito anzi voglio che così come per li granari di questi ricchi sono grani d'ogni maniera orzo miglio frumento e altre biade si fatte dalle quali altre mangiano gli uomini altra le bestie di quella casa così si parli diversamente or latino or volgare ove quando è mestieri onde se l'uomo è in piazza in villa o in casa col vulgo co contadini co servi parli volgare e non altra mente ma nelle scuole delle dottrine e tra i dotti ove possiamo e debbiamo esser uomini sia umano cioè latino il ragionamento e altrettanto sia detto della scrittura la quale farà volgar la necessità ma la elezione latina massimamente quando alcuna cosa scrivemo per disiderio di gloria la quale mal ci può dar quella lingua che nacque e crebbe con la nostra calamità e tuttavia si conserva con la ruina di noi troppo ospramente accusate questa innocente lingua la quale pare che molto più vi sia in odio che non amate la latina e la greca però che ove ci avevate promesso di lodar quelle principalmente e la toscana alcuna volta venendo il caso vi tuperare ora avete fatto in contrario quelle non avete lodato e questa una fieramente ci biasimate e per certo a gran torto però che ella non è punto si barbara né si priva di numero ed armonia come la ci avete dipinta che se la origine di lei fu barbara da principio non volete voi che in spazio di 400 o 500 anni sia divenuta cittadina d'italia per certo sì altramente li romani medesimi li quali di frigia cacciati vennero ad abitare in italia sarebbero barbari le persone i costumi e la lingua loro sarebbe barbara l'italia la grecia e ogni altra provincia quantunque mansueta e umana si potrebbe dir barbara se l'origine delle cose fosse bastante di recar loro questa infame denominazione confesso adunque la lingua nostra materna essere una certa adunanza non confusa ma regolata di molte e diverse voci nomi verbi e altre parti d'orazione le quali primieramente da strane varie nazioni in italia disseminate pia e artificiosa cura de nostri progenitori insieme raccolse e ad un suono ad una norma ad un ordine si fattamente compose che essi ne formarono quella lingua la quale ora è propria nostra e non d'altri imitando in questo la madre nostra natura la quale di quattro elementi diversi molto fra loro per qualità e per sito ci ha formatino i altri più perfetti e più nobili che gli elementi non sono immaginatevi messer lazaro di vedere l'imperio la degnità le ricchezze le dottrine e finalmente le persone la lingua d'italia e in forza de barbari in maniera che il trarla l'or delle mani sia cosa quasi impossibile voi non vorrete vivere al mondo mercantare studiare parlare voi e vostri figliuoli ma lasciando da parte l'altre cose parlerete latino cioè in guisa che non vi intendano i bolognesi o parlerete in maniera che altri intenda e risponda dunque una volta il parlar volgarmente era forza in italia ma in processo di tempo fece l'uomo come si dice di quella forza e necessità l'arte e l'industria della sua lingua e così come nel principio del mondo gli uomini dalle fere si difendevano fuggendo e uccidendo senz'altro or passando più oltre a beneficio e ornamento della persona ci vestiamo delle lor pelli così da prima a fine solamente d'essere intesi da chi regnava parlavamo volgare ora a diletto e a memoria del nostro nome parliamo e scriviamo volgare o egli sarebbe meglio che si ragionasse latino non lo nego ma meglio sarebbe ancora che i barbari mai non avessero presa né distrutta l'italia e che l'imperio di roma fosse durato in eterno dunque essendo altramente che si dè fare vogliam morir di dolore restar mutoli e non parlar mai finchè torni a rinascere cicerone e virgilio le case e i tempi e finalmente ogni artificio moderno i disegni i ritratti di metallo e di marmo non sono da esser pareggiati agli antichi dovemo però abitare tra boschi non dipingere non fundere non isculpire non sacrificare non adorar dio basta l'uomo messer lazaro mio caro che egli faccia ciò che egli sa e può fare e si contenti delle sue forze consiglio adunque ammonisco ciascuno che egli impare la lingua greca e latina quelle abbracce quelle abbiacare e con l'aiuto di quelle studie e a farsi immortale ma a tutti quanti non ha partito ugualmente domene dio né l'ingegno nel tempo più vi vuod dire sarà alcuno per avventura cui né natura né industria non mancherà nulla di meno egli sarà quasi che dalle stelle inclinato a parlare e scriver meglio volgare che non latino in un soggetto e in una materia medesma che degli fare che ciò sia il vero vedete le cose latine del petrarca del boccaccio e agguagliatele alle loro volgari di quelle ni una peggiore di queste ni una migliore giudicarete dunque da capo consiglio e ammonisco voi messer lazaro scrivere e parlare latino come quello che assai meglio scrivete e parlate latino che non volgare ma voi gentiluomo il quale o la pratica della corte o l'inclinazione del vostro nascimento stringe a far altramente altramente consiglio e facendo altramente non solamente non viverete inonorato ma tanto più glorioso quanto scrivendo e parlando bene volgare almeno a volgari sarete caro ove malamente scrivendo e parlando latino vile sareste addotti parimente e indotti ne vi persuada l'eloquenzia di messer lazaro piuttosto a divenir mutolo che componere volgarmente però che così la prosa come il verso della lingua moderna è in alcune materie poco meno numerosa e di ornamenti capace della greca e della latina i versi hanno lor piedi lor armonia lor numeri le prose il lor flusso di orazione le lor figure e le lor eleganzie di parlare repetizioni conversioni complessioni e altre tai cose per le quali non è forse come credete diversa una lingua dall'altra che se le parole sono diverse l'arte del comporle e dell'adunarle è una cosa medesma nella latina e nella toscana se messer lazaro ci negasse questo io li domanderei onde è adunque che le cento novelle non sono belle egualmente né i sonetti del petrarca tutti parimente perfetti certo bisognerebbe che egli dicesse nì una orazione nì un verso toscano non esser né più brutto né più bello dell'altro e per conseguente il serafino essere uguale al petrarca o veramente confessarebbe fra le molte composizioni volgari alcuna più alcuna meno elegante e ornata dell'altra trovarsi la qualcosa non sarebbe così quando elle fossero del tutto prive dell'arte dell'orare e del poetare monsignore io negai la lingua moderna aver in sé numero né ornamento né consonanzia e lo nego di nuovo non per esperienza che un abbia ma per ragione che se l'uomo senza punto saper sonare né tamburo né tromba solo che egli oda una volta per la loro spiacevolezza può giudicare quelli non essere strumenti atti a fare armonia né ballo così udendo e formando per me medesimo queste parole volgari al suono di ciascuna di loro separata dall'altre senza ch'io le compono altramente assai bene comprendo che di letto possono recare agli orecchi degli ascoltanti le prose e i versi che se ne fanno vero è che questo giudicio non l'ha ognuno ma coloro solamente i quali sono usati a vallare al suono dei leuti e dei violoni e mi ricordo essendo una volta in venezia ove erano giunte alcune navi dei turchi udire in quelle un rumore di molti strumenti del quale nel più spiacevole nel più noioso non udì mai alla vita mia non di meno a coloro che non sono usi alle delizie d'italia pari a quella una dolce musica altrotanto si può dire della numerosità dell'orazione del verso di questa lingua alcuna volta qualche consonanzia vi si ritrova che meno ingrata e men brutta fa l'una dell'altra ma quella in sé è armonia e musica di tamburi anzi d'archibosi e di falconetti che introna altrui l'intelletto e fere e stroppia si fattamente che egli non è più atta ricevere impressione di più delicato strumento né secondo quello operare per la qualcosa che non ha tempo overtù di sonare i leuti e i violoni della latina piuttosto si dè stare ozioso che por mano ai tamburi alle campane della volgare imitando l'esempio di pallade la quale per non si distorcere nella faccia sonando gittò via la piva di che era stata inventrice e fu a lei più gloria il partirla da sé e non degnar da pressarla si alla sua bocca che non fu utile a amarsi a il ricoglierla e sonarla onde ne perdette la pelle vero diceste monsignore quei primi antichi toscani essere stati sforzati a parlare in questa maniera non volendo con silenzio trapassar la lor vita e che noi altri posteriori abbiamo fatto dell'altrui forza nostra virtù questo è vero ma maggior laude dà altrui quella violenzia che a noi non reca questa vertù glorie fu a loro l'esser solerti nelle miserie ma biasmo e scorno è a noi altri ora che liberi semo il dar ricetto e conservare lungamente un perpetuo testimonio della nostra vergogna e quello non solamente nudrire ma ornare altro non essendo questa lingua volgare che uno indizio dimostrativo della servitù degli italiani verreggiando una volta la vostra repubblica e non le bastando l'oro e l'argento a pagare i soldati fece come si dice stampare gran quantità di denari di cuoio cotto col conio di san marco e con quelli sostentò e vinse la guerra e fu sapienzia veneziana questa ma se a tempo di pace avessero continuato a spendere questa moneta e a farla di giorno in giorno più bella di miglior corame già sarebbe convertita in avarizia la sapienzia ora se alcuno ci avesse il quale sprezzato l'oro e l'argento facesse del cuoio tesoro non sarebbe egli pazzo costui sì veramente ma noi altri cui mancando il tesoro latino la nostra calamità fece provvedere di moneta volgare quella non ci basta di spendere tuttavia col volgo che altra non ne conosce ne tocca ma venuto ne fatto di ricoprar le perdute ricchezze le tuttavia conserviamo e nei secreti dell'anima nostra ove sollevamo serrar l'oro e l'argento di roma diamo ricetto alle reliquie di tutta la barbarie del mondo a me pare messer lazaro che questo non sia né lodar la lingua latina né vituperarla volgare ma piuttosto un certo lamentarsi della ruina d'italia la qualcosa com'è poco fruttuosa così è molto discosta dal nostro proponimento onde non vi vedo partir volentieri parvi che l'biasmo sia poco quando io congiungo il nascimento di lei alla destruzione dell'imperio e del nome latino e l'accroscimento di lei al mancamento del nostro intelletto già a me non laudarete in questa maniera per farmi piacere ciò non giudico biasimo ma meraviglia piuttosto che gran cosa d'è esser quella di cui non può l'uomo parlare tacendo la ruina di roma che fu capo del mondo e che questo sia vero puniamo che non i barbari ma i greci l'avessero desfatta e che da indi in qua parlassero ateniese gli italiani voi biasimareste la lingua attica però che l'uso di lei fosse congiunto alla servitù nostra se ciò stato fosse non sarebbe suta guasta ma riformata l'italia perché non solamente non biasimerei il disfacimento di questo imperio ma lodarei dio che lui avesse voluto ornare di linguaggio convenevole alla sua dignità dunque maggiore è il danno d'aver perduta la lingua che la libertà sì senza dubbio però che in qualunque stato sia l'uomo o franco o soggetto sempre mai è uomo né dura più d'uomo ma la lingua latina avvertù di fare d'uomini dei e di morti nonché di mortali che siamo immortali per fama e che ciò sia vero l'imperio romano che si distese per tutto a giacbasto ma la memoria della grandezza di lui conservata nell'istorie di salustio e di livio dura ancora e durerà finché il cielo si moverà e altro tanto si può dire dell'imperio e della lingua de greci questa vertù di far le persone famose per molti seculi non l'ha che io creda la istoria greca e latina come greca e latina ma come istoria che ella è la quale in qualunque idioma sia scritta da alcuno è sempre mai come alcun dice testimonio del tempo luce della verità vita della memoria maestra della vita d'altrui e rinovellamento dell'antichità voi dite il vero non esser propria questa vertù delle storie grece e latine nonché altra lingua ne sia partecipe ma perciò che tutte le storie grece e latine non hanno avuto tal privilegio ma quelle solamente le quali artificiosamente compose alcuno uomo eloquente essendo perfette quelle due lingue un degli annali di roma li quali senza alcun ornamento con semplici ancora rozze parole narravano gli avvenimenti di lei non durarono molti anni né di loro si parlerebbe se altro scrittore quasi da compassione mosso non ne facesse parola dunque se quelli il tempo ha fatto di venir nulla li quali assai dovevano aver deleganzia essendo scritti latinamente or che fia dell'istorie volgari cui né naturale dolcezza di lingua né ratificiosa eloquenzia di scrittori non può far care né graziose giomai non intendo ancora ben bene in che cosa consista la soavità della lingua e delle parole latine e la barbarica spiacevolezza delle volgari anzi confessandovi liberamente la mia ignoranzia grandissimo numero de nomi e participi latini con loro strana pronunziazione le più volte mi suonano non so che bergamasco nel capo altrotanto sogliono fare alcuni modi e tempi de verbi alle quali parole una simile delle volgari la nostra corte romana non degnerebbe di profferire io vi ricordo gentiluomo che l'autorità concistoriale non è giudice competente del suono degli accenti delle parole latine onde se alcuna volta la lingua latina le pare tener della bergamasca ella non è però bergamasca né perchè tale sia giudicata più vi dovete meravigliare che già vi siate meravigliato avendo letto in ovidio mi dare più solere lodare lo stridere delle cannucce di pan che la soavità della cetra d'apollo ecco io son contento di confessarvi che le mie orecchie in tal caso non siano umane ma d'asino se voi mi dite per quel cagione la numerosità e consonanzia dell'orazioni e dei versi di questa lingua chiamaste musica d'archibosi con ciò sia cosa che i gran maestri di canto cui è propria professione l'armonia rade volte o non mai fanno canto o mottetto che le parole di lui non siano sonetti o canzoni volgari questo è pur segno che i nostri versi son da sé pieni di melodia già non è gentiluomo come forse pensate l'armonia del canto e quella delle prose de versi una cosa medesima ma molte sono e diverse onde non solamente delle cose volgari ma de chiri e ancora dei santus si fanno canti e mottetti della cui armonia generalmente s'intende ogni orecchia però che quali sono i sapori alla lingua e agli occhi e al naso i colori e gli odori tale è il suono agli orecchi degli uomini li quali per l'ornatura e senza studio veruno facilmente discernono tra il piacevole e il dispiacevole ma il numero e l'armonia dell'orazione del verso latino non è altro che artificiosa disposizione di parole dalle cui sillabe secondo la brevità e la lunghezza di quelle nascono alcuni numeri che noi altri chiamiamo piedi onde misuratamente cammina dal principio alla fine il verso e l'orazione e sono di diverse maniere questi tai piedi facendo i loro passi lunghi e corti tardi e veloci ciasché d'uno al suo modo e è bell'arte quelli insieme ad unare si fattamente che non discordino fra se stessi ma l'uno all'altro e tutti insieme siano conformi al soggetto però che d'alcune materi alcuni piedi sono quasi peculiari e fra lor piedi quali meglio quali peggio s'accompagnano al loro viaggio e qualunche persona quelli a caso congiugne non avendo riguardo né alla natura di quelli né alle cose di che intende ragionare i versi e l'orazione sue nascono zoppe e non dovrebbe nutrirgli e di questa cotal melodia non ne sono capaci gli orecchi del vulgo né lei altresì possono formare le voci della lingua volgare la cui prosa io non so dire per qual ragione sia numerosa chiamata se l'uomo in lei o non si accorge o non cura né di spondei né di dattili né di trochei né d'anapesti e finalmente di niuna maniera di piedi onde si muove l'orazione ben regolata veramente questa nuova bestia di prosa olgare o è senza piedi e sdrucciola a guisa di biscia o a quelli di specie diversa molto dalla greca e dalla latina e per conseguente di così fatto animale come di mostro a caso creato oltre il costume e l'intenzione d'ogni buono intelletto non si dovrebbe fare né arte né scienzia i versi veramente in quanto son fatti d'undici sillabe non paiono in tutto privi di piedi che le sillabe in loro hanno luogo e ufficio di piedi ma in quanto quelle cotali possono esser lunghe e brevi a lor voglia mai non dirò che sia diritto il lor calle salvo se monsegnor non dicesse le rime esser l'appoggio de versi che gli sostengono e fanno andare dirittamente a qualcosa non mi par vera però che per quello che io no da dire le rime sono piuttosto come catena al sonetto e alla canzone che piedi o mani diversi loro e tanto voglio che ne sia detto da me brevemente certo per rispetto a quello che se ne può ragionare ma abbastanza se alla vostra richiesta e troppo forse se alla presenza di monsegnore si riguarderà il quale meglio di me conosce e può numerare i difetti di questa lingua di numeri come si stia e se così la prosa come il verso toscano nà la sua parte e in che modo la si abbia per essere assai facile da vedere ma lontana dal nostro proponimento ora con esso voi non intendo di disputarla anzi confessando quello esser vero che ne diceste non tanto perché sia vero quanto perché si veda ciò che ne segue io vi dico questa lingua moderna tutto che sia tempatetta che no esser però ancora assai picciola e sottile verga la quale non ha appieno fiorito nonché frutti produtti che la può fare certo non per difetto della natura di lei essendo così atta a generar come le altre ma per colpa di loro che l'ebbero in guardia che non la coltivorno abbastanza ma a guisa di pianta selvaggia in quel medesimo deserto ove per sé a nascere cominciò senza mai né ad acquarla né potarla né difenderla dai pruni che le fanno ombra l'hanno lasciata invecchiare e quasi morire e se que primi antichi romani fossero stati sì negligenti in coltivare la latina quando a pullular cominciò per certo in sì poco tempo non sarebbe divenutasi grande ma essi a guisa di ottimi agricoltori lei primieramente tramutarono dal luogo selvaggio a domestico poi perché e più tosto e più belli e maggior frutti facesse levandole via d'attorno le inutili frasche in loro scambio l'innestarono d'alcuni ramuscelli maestrevolmente detratti dalla greca li quali subitamente in guisa le si appiccarono e in guisa si ferrono simili al tronco che oggi mai non paiono rami adottivi ma naturali quindi nacquero in lei que fiori e que frutti sì coloriti dell'eloquenzia con quel numero e con quell'ordine i stesso il quale tanto essaltate li quali non tanto per sua natura quanto d'altrui artificio aiutata suol produrre ogni lingua però che il numero nato per magistero di trasimaco di gorgia di teodoro isocrate finalmente fece perfetto dunque se greci e latini uomini più solleciti alla cultura della lor lingua che noi non semo alla nostra non trovarono in quelle se non dopo alcun tempo e dopo molta fatica né leggiadria né numero già non dè parer meraviglia se noi ancora non avemo tanto che basti nella volgare né quindi dè prender uomo argumento a sprezzarla come vil cose da poco o la latina è migliore d'assai o quanto sarebbe meglio dir fu e non è ma sia stata per lo passato e sia ancor tuttavia sì gentil cosa tempo forse verrà che d'altra tanta eccellenzia fia la volgare dotata che se per essere a nostri giorni di niuno stato e men gradita non si dovesse apprezzare la greca la quale era già grande sul nascimento della latina né nostri animi non dovea lasciare fermare le radici d'un'altra lingua novella e altrettanto direi della greca per rispetto alla ebrea concluderebbe sì finalmente dalle vostre premisse dover essere al mondo sola una lingua e non più onde scrivessero e parlassero li mortali e avverrebbe che ove voi credereste d'argumentar solamente contra la lingua toscana e quella con vostre ragioni estirpare del mondo voi parlareste e zian dio contra la latina e la greca benché questa pugna si estenderebbe non solamente contra i linguaggi del mondo ma contra dio il quale ab eterno diede per legge immutabile ad ogni cosa creata non durare eternamente ma di continuo ad uno in altro stato mutarsi ora avanzando e ora diminuendo finché finisca una volta per mai più poscia non rinnovarsi voi mi direte troppo indugio oggi mai la perfezione della lingua materna e io vi dico che così è come dite ma tale indugio non dè far credere altrui esser cosa impossibile che ella divenga perfetta anzi vi può far certo lei doversi lungo tempo godere la sua perfezione qualora egli avverrà che ella se l'abbia acquistata che così vuol la natura la quale ha deliberato che qual arbor tosto nasce fiorisce fa frutto tale tosto invecchie e si muoia e in contrario che quello duri per molti anni il quale lunga stagione harà penato a far fronde sarà dunque la nostra lingua in conservarsi la sua dovuta perfezione lungamente desiderata e cercata simile forse ad alcuni ingegni li quali quanto men facilmente apprendono le dottrine tanto difficilmente le si lasciano uscire della memoria o ella è testimonio della nostra vergogna essendo venuta in italia insieme con la roina di lei piuttosto ella è testimonio della nostra solerzia e del nostro buon ardimento che così come venendo Enea da troia in Italia ad onorsi recò lasciare scritto in un certo trofeo drizzato da lui quelle essere state larmi dei vincitori della sua patria così vergogna non ci può essere la ver cosa in Italia tolta di mano a coloro che noi tolsero di libertà direi finalmente quando esser volessi maligno piuttosto doversi adorar dalle gente il sole oriente che l'occidente la lingua greca e latina è già esser giunte all'occaso né quelle esser più lingue ma carta solamente e inchiostro ove quanto sia difficile cosa l'imparare a parlare ditelo voi per me che non osate dir cosa latinamente con altre parole che con quelle di Cicerone onde quanto parlate e scrivete latino non è altro che Cicerone trasposto piuttosto da carta a carta che da materia a materia benché questo non essi il vostro peccato che egli non sia anche mio ed altri assai e maggiori e migliori di me peccato però non indegno di scusa non possendo farsi altramente ma queste poche parole dette da me contra la lingua latina per la volgare non dissi per vero dire solo volsi mostrare quanto bene difenderebbe questa lingua novella chi per lei far volesse difesa quando a lei non manca né core né armi doffendere laltrui parmi monsignor che così temiate di dir male della lingua latina come se ella fosse la lingua del vostro santo da padova alla quale è di tanto conforme che come quella fu di persona già viva la cui santità è cagione che ora posta in un tabernacolo di cristallo sia dalle genti adorata così questa degna reliquia del capo del mondo roma guasto e corrotto già molto tempo quantunque oggi mai fredda e secca si taccia nondimeno fatta idolo da alcune poche e superstiziose persone colui da loro non è cristiano tenuto che non l'adora per dio ma adoratela a vostro senno solo che non parviate con esso lei e volendo tenerla in bocca così morta come è sia vi lecito di poterlo fare ma parlate tra voi dotti le vostre morte latine parole e a noi idioti le nostre vive volgari con la lingua che dio ci diede lasciate in pace parlare dovevate per agguagliarla compitamente alla lingua di qualche santo soggiungere qualmente le orazioni di cicerone e i versi di virgilio le sono degne e preziosissimi tabernacoli onde lei come cosa beata riveriamo e inchiniamo ma per certo nell'una nell'altra non meritava che la teneste per morta operando tuttora nei corpi nostri e nell'anime quella salute questa virtute con tutto ciò lodo sommamente la nostra lingua volgare cioè toscana a ciò che non sia alcuno che intenda della volgare di tutta Italia toscana dico non la moderna che usa il vulgo oggi di ma l'antica onde si dolcemente per l'orno il petrarca e il boccaccio che la lingua di Dante sente bene e spesso più del lombardo che del toscano e ovè toscano e piuttosto toscano di contado che di città dunque di quella parlo quella lodo quella vi persuado a parare quantunque ella non si è giunta alla sua vera perfezione ella non di meno le è già venuta sì presso che poco tempo vi è avvolgere ove poi che arrivata sarà non dubito punto che quale è nella greca e nella latina tale fia in lei virtù di far vivere altrui mirabilmente dopo la morte e allora sì le vedremo noi fare di molti non tabernacoli ma tempi e altari alla cui visitazione concorrerà da tutte le parti del mondo brigata di spiriti pellegrini che le faranno lor voti e saranno esauditi da lei dunque se io vorrò bene scrivere volgarmente converràmi tornare a nascer toscano nascer no ma studiar toscano che egli è meglio per aventura nascer lombardo che fiorentino però che l'uso del parlar tosco oggidì è tanto contrario alle regole della buona toscana che più noce altrui l'esser natìo di quella provincia che non gli giova dunque una persona medesma non può esser tosca per natura e per arte difficilmente per certo essendo l'usanza che per lunghezza di tempo è quasi convertita in natura diversa in tutto dall'arte onde come chi è giudeo e eretico rade volte diviene buon cristiano e più crede in cristo chi nulla credeva quando fu battezzato così qualun che non è nato toscano può meglio imparare la buona lingua toscana che colui non fa il quale da fanciullo in su sempre mai parlò perversamente toscano io che mai non nacqui né studiai toscano male posso rispondere alle vostre parole non di meno a me pare che più si convenga col vostro boccaccio il parlar fiorentino moderno che non fa il bergamasco onde egli potrebbe esser molto bene che uomo nato in melano senza aver mai parlato alla maniera lombarda meglio apprendesse le regole della buona lingua toscana che non farebbe il fiorentino per patria ma che egli nasca e parle lombarda oggidì e dimanda mattina parle e scriva regolatamente toscano meglio e più facilmente del toscano medesimo non mi può entrare nel capo altramente al tempo antico per bene parlare greco e latino sarebbe stato meglio nascere spagnolo che romano e macedone che ateniese questo no perchè la lingua greca e latina al lor tempo erano egualmente in ogni persona pure e non contaminate dalla barbarie e dellaltre lingue e così bene si parlava dal popolo per le piazze come tradotti nelle lor scole si ragionava onde egli si legge di teofrasto che fu l'un de lumi della greca eloquenzia essendo in atene alle parole essere stato giudicato forestiere da una povera femminetta di contato io per me non so come si stia questa cosa ma sì vi dico che dovendo studiare in apprendere alcuna lingua piuttosto voglio imparar la latina e la greca che la volgar la quale mi contento d'aver portato con esso meco dalla cuna e dalle fasce senza cercarla altramente quando tra le prose quando tra versi degli autori toscani così facendo voi scriverete e parlarete a caso non per ragione però che ni un altra lingua ben regolata all'italia se non quell'una di cui vi parlo almeno dirò quello che io averò in core e lo studio che io porrei in infilzar parolette di questo e di quello sì lo porrò in trovare e disporre i concetti dell'animo mio onde si deriva la vita della scrittura che male giudico potersi usare da noi altri a significare i nostri concetti quella lingua tosca o latina che ella sia la quale impariamo e essercitiamo non ragionando tra noi i nostri accidenti ma leggendo gli altrui questo ad i nostri chiaramente si vede in un giovane padovano di nobilissimo ingegno il quale benché tal'ora con molto studio che egli vi mette alcuna cosa componga alla maniera del petrarca e sia lodato dalle persone nondimeno non sono da pareggiare i sonetti e le canzon di lui alle sue comedie le quali nella sua lingua natia naturalmente e da niuna arte aiutate par che egli eschino della bocca non dico però che uomo scriva né padovano né bergamasco ma voglio bene che di tutte le lingue d'italia possiamo accogliere parole in alcun modo di dire quello usando come a noi piace sì fattamente che il nome non si discordi dal verbo né l'adiettivo dal sostantivo la qual regola di parlare si può imparare in tre giorni non tra grammatici nelle scuole ma nelle corti co gentiluomini non istudiando ma giuocando e ridendo senza alcuna fatica e con diletto de discepoli e de precettori bene starebbe se questa guise di studio bastasse altrui a far cosa degna di laude e di meraviglia ma egli sarebbe troppo leggera cosa il farsi eterno per fama e il numero de buoni e lodati scrittori in piccol tempo diventerebbe molto maggiore che egli non è bisogno gentiluomo mio caro volendo andar per le mani e per le bocche delle persone del mondo lungo tempo sedersi nella sua camera e chi morto in se stesso disia di viver nella memoria degli uomini sudare e agghiacciar più volte e quando altri mangia e dorme a suo agio patir fame e veghiare con tutto ciò non sarebbe facil cosa il divenir glorioso ove altro bisogna che saper favellare che ne dite voi messer lazaro io per me son contento contentandosi monsignore che la vostra sentenza punga fine alle nostre liti cotesto non farò io che io vorrei che i difensori di questa lingua volgare fossero discordi tra loro acciò che quella guise di regno partito più agevolmente rovinassero le dissensioni civili dunque aiutatemi contra all'oppenion di monsignore mosso non solamente dall'amor della verità la quale dovete amare e riverire sopra ogni cosa ma dall'odio che voi portate a questa lingua volgare che vincendolo vincerete il miglior difensore della lingua volgare che abbia oggi dì la sua dignità dal giudicio del quale prende il mondo argumento d'impararla e usarla combattete pur tra voi due acciò che con quelle armi medesme che voi oprate contra la latina e la greca la vostra lingua volgare si ferisca e si estingua monsignore né a voi sarebbe gloria vincer me debole combattitore e già stanco nella battaglia di anzi avuta con messer lazzaro né a me fia vergogna l'essere aiutato d'altrui incontra all'autorità e dottrina vostra le quali ambedue insieme mi danno guerra sì fattamente ch'io non conosco quel più perchè non volendo messer lazaro congiurar con esso meco a difendermi prego voi signore scolare che con sì lungo silenzio e sì attentamente ci avete ascoltati che avendo alcuna arme con la quale voi mi possiate aiutare siate contento di trarla fuori per me che poiché questa pugna non è mortale potete entrarvi senza paura accostandovi a quella parte che più vi piace benché piuttosto vi dovete accostare alla mia ove sete richiesto e ove è gloria l'esser vinto da così degno avversario scolare gentiluomo io non parlai finora però che io non sapea che mi dire non essendo mia professione lo studio delle lingue ma volentieri ascoltai bramando e sperando pur d'imparare dunque avendo a combattere in difesa d'alcuna vostra sentenza non vi possendo aiutare io vi consiglio che senza me combattiate che gli è meglio per voi il combatter solo che da persona accompagnato la quale come in esperta dell'armi cedendo in sul principio della battaglia vi dia cagione di temere e farvi dare al fuggire con tutto ciò se mi potete aiutare che appena credo che sia altramente sendo stato sì attento al nostro contrasto aiutatemi che io ve ne prego salvo se non sprezzate tal questione come vilcosa e di sì poco valore che non degnate di entrare in campo con esso noi come non degnarei di parlar di materia di che il bembo al presente e altra volta il peretto mio precettore insieme con messer lascari con non minor sapienza che eleganzia ne ragionò troppo mi degnarei se io sapessi ma d'ogni cosa io so poco e delle lingue niente come quello che della greca conosco appena le lettere e della lingua latina tanto solamente imparai quanto bastasse per farmi intendere i libri di filosofia d'aristotele li quali per quello che io n'ho da dire da messer lazzaro non sono latini ma barbari della volgare non parlo che di sì fatti linguaggi mai non seppi né mai curai di sapere salvo il mio padovano del quale dopo il latte della nutrice mi fu il vulgo maestro pur a voi converrà di parlar se non altro quello almeno che n'apparaste dal peretto e dall'ascari li quali così saviamente come voi dite parlarono intorno a questa materia poche cose delle infinite che a tal materia pertengono può imparare in un giorno chi non le ascolta per imparare pensando che non bisogni impararle ditene almeno quel poco che vi rimase nella memoria che a me fie caro l'intenderlo volentieri in tal caso udirò recitare l'oppenione del mio maestro peretto il quale avvegna che niuna lingua sapesse dalla mantovana in fuori non di meno come uomo giudizioso e uso rade volte a ingannarsi ne può aver detto alcuna cosa con l'ascari che l'ascoltarla mi piacerà pregovi adunque che se niente ve ne ricorda alcuna cosa del suo passato ragionamento non vi sia grave di riferirne così si faccia poi che vi piace che anzi voglio esser tenuto ignorante cosa dicendo non conosciuta da me che di scortese rifiutando quei prieghi che deono essermi comandamenti ma ciò si faccia con patto che come a me non è onore il riferirvi gli altrui dotti ragionamenti così il tacerne alcuna parola alla quale dall'ora in qua mi sia uscita della memoria non mi sia scritto a vergogna ad ogni patto mi sottoscrivo purché diciate l'ultima volta che messer l'ascari venne di francia in italia stando in bologna dove volentieri abitava e visitandolo il peretto come era uso di fare un di tra gli altri poiché alquanto fu dimorato con esso lui lo dimandò messer l'ascari l'ascari vostra eccellenza maestro piero mio caro che legge quest'anno peretto signor mio io leggo i quattro libri della meteora d'aristotile per certo bella lettura è la vostra ma come fate despositori dei latini non troppo bene ma alcun mio amico m'ha servito d'uno alessandro buona elezione faceste però che alessandro è aristotile dopo aristotile ma io non credeva che voi sapeste lettere greche io l'ho latino non greco poco frutto dovete prenderne perché perché io giudico alessandro afrodise o greco com'è tanto diverso da se medesmo poiché latino è ridotto quanto vivo da morto questo potrebbe esser che vero fosse ma io non vi faceva differenzia anzi pensava che tanto mi dovesse giovare la lezione latina e volgare se volgare si ritrovasse alessandro quanto a greci la greca e con questa speranza incominciai a studiarlo vero è che egli è meglio che voi l'abbiate latino che non l'abbiate del tutto ma per certo la vostra dottrina sarebbe il doppio e maggiore e migliore che ella non è se aristotile e alessandro fosse letto da voi in quella lingua nella quale l'uno scrisse e l'altro l'espose per quel cagione perciò che più facilmente e con maggiore eleganzia di parole sono espressi da lui i suoi concetti nella sua lingua che nell'altrui vero forse direste se io fossi greco siccome nacque aristotile ma che omo lombardo studi e greco per dover farsi più facilmente filosofo mi par cosa non ragionevole anzi disconvenevole non iscemandosi punto ma raddoppiandosi la fatica dell'imparare perciò che meglio e piuttosto può studiarlo scolare loica sola o solamente filosofia che non farebbe dando opera alla grammatica specialmente alla greca per questa e stessa ragione non dovevate impararne latino né greco ma solamente il volgare mantovano e con quello filosofare dio volesse in servigio di chi verrà dopo me che tutti i libri di ogni scienzia quanti ne sono greci e latini e ebrei alcuna dotta e pietosa persona si desse a fare volgari forse i buoni filosofanti sarebbero in numero assai più spessi che a di nostri non sono e la loro eccellenzia diventarebbe più rara o non v'intendo o voi parlate con ironia anzi parlo per dire il vero e come uomo tenero dell'onor degli italiani che se l'ingiuria dei nostri tempi così presenti come passati volle privarmi di questa grazia dio mi guardi che io sia sì pieno né così arso d'invidia che io desideri di privarne chi nascerà dopo me volentieri v'ascolterò se vi dà il cor di provarmi questa nuova conclusione che io non la intendo né la giudico intelligibile ditemi prima ond'è che gli uomini di questa età generalmente in ogni scienza son mendotti e di minor prezzo che già non furon gli antichi il che è contra il dovere conciò sia cosa che molto meglio e più facilmente si possa aggiungere alcuna cosa alla dottrina trovata che trovarla da sé medesimo che si può dire altro se non che andiamo di male in peggio questo è vero ma le cagioni son molte tra le quali una venà e oso dire la principale che noi altri moderni viviamo in darno gran tempo consumando la miglior parte dei nostri anni la qualcosa non avveniva agli antichi e per distinguere il mio parlare porto fermo opinione che lo studio della lingua greca e latina sia cagione dell'ignoranzia che se il tempo che intorno ad esse perdiamo si spendesse da noi imparando filosofia per avventura l'età moderna genererebbe quei platoni e quegli aristotili che produceva l'antica ma noi vani più che le canne pentiti quasi d'aver lasciato la cuna e esser uomini divenuti tornati un'altra volta fanciulli altro non facciamo dieci e venti anni di questa vita che imparare a parlare chi latino chi greco e alcuno come dio vuole toscano li quali anni finiti e finito con esso loro quel vigore e quella prontezza la quale naturalmente suolrecare all'intelletto la gioventù allora procuriamo di farci filosofi quando non siamo atti alla speculazione delle cose onde seguendo l'altrui giudicio altra cosa non viene ad essere questa moderna filosofia che ritratto di quella antica però così come il ritratto quantunque fatto d'artificiosissimo dipintore non può essere del tutto simile alla idea così noi benché forse per altezza d'ingegno non siamo punto inferiori agli antichi non di meno in dottrina tanto siamo minori quanto lungo tempo stati sviati dietro alle favole delle parole coloro finalmente imitiamo filosofando all'i quali alcuna cosa giugnendo d'è avanzare la nostra industria dunque se lo studio delle due lingue nuoce altrui si malamente come voi dite che si dè fare lasciarlo ora no che non si potrebbe perciò che l'arti e le scienzie degli uomini sono al presente nelle mani dei latini e dei greci ma si fare debbiamo per l'avenire che d'ogni cosa per tutto il mondo possa parlare ogni lingua come maestro piero che è ciò che voi dite dunque darebbevi il core di filosofare volgarmente e senza aver cognizione della lingua greca e latina monsignor sì pur che gli autori greci e latini si riducessero italiani tanto sarebbe trasferire aristotile di lingua greca in lombarda quanto traspiantare un arancio o una oliva da un ben colto orticello e non bosco di pruni oltre che le cose di filosofia sono peso da altre spalle che da quelle di questa lingua volgare io ho per fermo che le lingue d'ogni paese così l'arabica e l'indiana come la romana e l'ateniese siano d'un medesmo valore ed ammortali ad un fine con un giudicio formate che io non vorrei che voi ne parlaste come di cosa dalla natura prodotta essendo fatte e regolate dallo artificio delle persone a bene placito loro non piantate né seminate le quali usiamo sì come testimoni del nostro animo significando tra noi i concetti dell'intelletto onde tutto che le cose dalla natura create e le scienze di quelle siano in tutte e quattro le parti del mondo una cosa medesma non di meno perciò che diversi uomini sono di diverso volere però scrivono e parlano diversamente la quale diversità e confusione delle voglie mortali degnamente è nominata torre di Babel dunque non nascono le lingue per sé medesme a guisa di alberi o d'erbe quale debole e inferma nella sua specie quale sana e robusta e atta meglio a portarla a soma di nostri umani concetti ma ogni loro vertù nasce al mondo dal voler de mortali per la qualcosa così come senza mutarsi di costume o di nazione il francioso e l'inglese non pur il greco e il romano si può dare a filosofare così credo che la sua lingua natia possa altrui compitamente comunicare la sua dottrina dunque traducendosi a nostri giorni la filosofia seminata dal nostro aristotile nei buoni campi d'Atene di lingua greca in volgare ciò sarebbe non gittarla tra sassi in mezzo a boschi ove sterile divenisse ma farebbesi di lontana propinqua e di forestiera che ella è cittadina d'ogni provincia forse in quel modo che le speziarie e le altre cose orientali a nostro utile porta alcun mercatante d'India in Italia ove meglio per avventura son conosciute trattate che da coloro non sono che oltre al mare le seminorno e ricolsero similmente le speculazioni del nostro aristotile ci diverrebbono più familiari che non sono ora e più facilmente sarebbero intese da noi se di greco in volgare alcun dotto omo le riducesse diverse lingue sono atti a significare diversi concetti alcune i concetti di dotti alcune altre degli indotti la greca veramente tanto si conviene con le dottrine che a dover quelle significare a tu re stessa non umano provvedimento pare che l'abbia formata e se creder non mi volete credete almeno a Platone mentre ne parla nel suo cratilo un dèi si può dir di tal lingua che qual è il lume a colori tale ella sia alle discipline senza il cui lume nulla vedrebbe il nostro umano intelletto ma in continua notte d'ignoranzia si dormirebbe piuttosto vuol credere ad aristotile e alla verità che lingua alcuna del mondo sia qual si voglia non possa aver da se stessa privilegio di significare i concetti del nostro animo ma tutto consista nello arbitrio delle persone onde chi vorrà parlar di filosofia con parole mantovane o milanesi non gli può essere disdetto a ragione più che disdetto gli sia il filosofare l'intender la cagion delle cose vero è che perché il mondo non ha in costume di parlar di filosofia se non greco o latino già crediamo che far non possa altramente e quindi viene che solamente di cose vidi e volgari volgarmente parla e scrive la nostra età ma come i corpi e le reliquie di santi non con le mani ma con alcuna verghetta per riverenza tocchiamo così i sacri misteri della divina filosofia piuttosto con le lettere dell'altrui lingue che con la viva voce di questa nostra moderna ci muoviamo a significare il quale errore conosciuto da molti niuno ardisce di ripigliarlo ma tempo forse pochi anni appresso verrà che alcuna buona persona non meno ardita che ingeniosa porrà mano a così fatta mercatanzia e per giovare alla gente non curando dell'odio né della invidia dei litterati condurrà d'altrui lingua alla nostra le gioie e i frutti delle scienzie le quali ora perfettamente non gustiamo né conosciamo veramente né di fama né di gloria si curerà chi vorrà prender la impresa di portar la filosofia dalla lingua d'Atene nella lombarda che tal fatica noia e biasimo gli recarà noia confesso per la novità della cosa ma non biasimo come credete che per uno che dapprima ne dica male poco da poi mille e mille altri loderanno e benediranno il suo studio quello avvenendogli che avvenne di Gesù Cristo il quale togliendo di morir per la salute degli uomini scarnito primieramente biasimato e crucifisso da alcuni ippocriti ora alla fine da chi il conosce come iddio e salvator nostro si riverisce e adora tanto diceste di questo vostro buon uomo che di piccolo mercatante l'avete fatto messia il quale dio voglia che sia simile a quello che ancora aspettano li giudei a ciò che eresia così vile mai non guasti per alcun tempo la filosofia d'Aristotile ma se voi siete in effetto di così strano parere che non vi fate a di nostri il redentore di questa lingua volgare perché tardi conobbi la verità e a tempo quando la forza dell'intelletto non è eguale al volere così dio m'aiuti come io credo motteggiate salvo se come fanno i maliziosi quello meco non biasimate che non potete ottenere monsignor le ragioni di anzi addotte da me non sono lievi che io debba dirle per rischerzare e non è cosa così difficile la cognizione delle lingue che uomo di meno che di mediocre memoria e senza ingegno veruno non le possa imparare quando non pur adotti ma forse nati ateniesi e romani solea parlare eloquentemente Cicerone e Demostene e era inteso da loro certo anni e lustri miseramente poniamo in apprendere quelle due lingue non per grandezza d'oggetto ma solamente perché allo studio delle parole contra la naturale inclinazione del nostro umano intelletto ci rivolgiamo il quale desideroso di fermarsi nella cognizione delle cose onde si diventa perfetto non contenta d'essere altrove piegato ove ornando la lingua di parolette e di ciance resti vana la nostra mente dunque dal contrasto che è tuttavia tra la natura dell'anima e tra il costume del nostro studio dipende la difficoltà della cognizione delle lingue degna veramente non di invidia ma d'odio non di fatica ma di fastidio e degna finalmente di dover essere non appresa ma ripresa dalle persone sì come cosa la quale non è cibo ma sogno e ombra del vero cibo dell'intelletto mentre voi parlavate così io immaginava di vedere scritta la filosofia d'aristotile in lingua lombarda e udirne parlare tra loro ogni vile maniera di gente facchini contadini barcaroli e altre tali persone con certi suoni e con certi accenti i più noiosi e i più strani che mai udissi alla vita mia in questo mezzo mi si parava dinanzi essa madre filosofia vestita assai poveramente di romagnolo piangendo e lamentandosi d'aristotile che disprezzando la sua eccellenza l'avesse a tale condotta e minacciando di non volere star più in terra sì bello onore ne le era fatto dalle sue opere il quale scusandosi con esso lei negava d'averla offesa giamai sempre mai averla amata e lodata nemmeno che orrevolmente averne scritto o parlato mentre egli visse lui esser nato e morto greco non brasciano né bergamasco e mentire chi dir volesse altramente alla qual visione desiderava che voi vi foste presente e io se stato vi fossi arei detto non doversi la filosofia dolere perchè ogni uomo per ogni luogo con ogni lingua il suo valore saltasse questo farsi anzi a gloria che avvergogna di lei la quale se non si sdegna d'albergare negli intelletti lombardi non si dè anche sdegnare d'esser trattata dalla lor lingua l'india la scizia e l'egitto ove abitavasi volentieri produsse genti e parole molto più strane più barbare che non sono ora le mantovane e le bolognesi lei lo studio della lingua greca e latina aver quasi del nostro mondo cacciata mentre l'uomo non curando di saper che si dica vanamente suole imparare a parlare e lasciando l'intelletto dormire sveglia e opera la lingua natura in ogni età in ogni provincia in ogni abito esser sempre mai una cosa medesima la quale così come volentieri fa sue arti per tutto il mondo non meno in terra che in cielo e per essere intenta alla produzione delle creature razionali non si scorda delle irrazionali ma con eguale artificio genera noi e i bruti animali così da ricchi parimente e poveri uomini da nobili e vili persone con ogni lingua greca latina ebrea e lombarda degna d'essere e conosciuta e lodata gli augelli pesci e l'altre bestie terrene d'ogni maniera ora con un suono ora con altro senza distinzione di parole i loro affetti significare molto meglio doverci affare noi uomini ciascuno con la sua lingua senza ricorrere all'altrui le scritture e i linguaggi essere stati trovati non a salute di lei la quale come divina che ella è non ha mestieri del nostro aiuto ma solamente a utilità e commodità nostra a ciò che absenti presenti vivi e morti manifestando l'un l'altro i secreti del core più facilmente conseguiamo la nostra propria felicità la quale è posta nell'intelletto delle dottrine non nel suono delle parole e per conseguente quella lingua e quella scrittura doversi usare da mortali la quale con più agio apprendemo e come meglio sarebbe stato se fosse stato possibile l'avere un sol linguaggio il quale naturalmente fosse usato dagli uomini così ora esser meglio che l'uomo scriva e ragioni nella maniera che men si scosta dalla natura la qual maniera di ragionare appena nati impariamo e a tempo quando altra cosa non semo atti ad apprendere e altrotanto arei detto al mio maestro Aristotile della cui eleganza e adorazione poco mi curerei quando senza ragione fossero da lui scritti i suoi libri natura aver lui adottato per figliuolo non per essere nato in Atene ma per aver bene in alto inteso bene parlato e bene scritto di lei la verità trovata da lui la disposizione e l'ordine delle cose la gravità e brevità del parlare esser sua propria e non d'altri né quella potersi mutare per mutamento di voce il nome solo di lui discompagnato dalla ragione quanto a me esser di assai piccola autorità a lui stare se essendo lombardo ridotto esser volesse Aristotile noi mortali di questa età così avercare i suoi libri tramutati nell'altrui lingua come gli ebbero i greci mentre greci li studiavano li qua i libri con ogni industria procuriamo d'intendere per divenire una volta non Ateniesi ma filosofi e con questa risposta mi sarei partito da lui dite pure e desiderate ciò che volete ma io spero che ad i vostri non vedrete Aristotile fatto volgare perciò mi doglio della misera condizione di questi tempi moderni nei quali si studia non ad esser ma a parer savio che ove sola una via di ragione in qualun che linguaggio può condurne alla cognizione della verità quella d'accanto lasciata ci mettiamo per strada la quale in effetto tanto ci dilunga dal nostro fine quanto altrui pare che vicimeni vicini che assai credemo d'alcuna cosa sapere quando senza conoscere la natura di lei possiamo dire in che modo la nominava Cicerone Cicerone, Plinio, Lucrezio e Virgilio tra latini scrittori e tra Greci Platone, Aristotile, Demostene e Eschine delle cui semplici parolette fanno gli uomini di questa età le loro arti e scienzie in guisa che dir lingua greca e latina par dire lingua divina e che sola la lingua volgare sia una lingua inumana priva al tutto del discorso dell'intelletto forse non per altra ragione salvo perché questa una da fanciulli e senza studio impariamo ove a quell'altra e con molta cura ci convertiamo come a lingue le quali giudichiamo più convenirsi con le dottrine che non fanno le parole dell'Eucarestia e del Battesmo con ambidue tai sacramenti la quale sciocca opinione si fissa negli animi di mortali che molti si fanno a credere che a dover farsi filosofi basti loro sapere scrivere e leggere greco senza più non altramente che se lo spirito d'Aristotile a guisa di folletto in cristallo stesse rinchiuso nell'alfabeto di Grecia e con lui insieme fosse costretto d'entrar loro nell'intelletto a fargli i profeti onde molti non ho già veduti a miei giorni si arroganti che privi in tutto d'ogni scienza confidandosi solamente nella cognizione della lingua hanno avuto ardimento di por mano a suoi libri quelli a guisa degli altri libri d'umanità pubblicamente esponendo dunque a costoro il far volgari le dottrine di Grecia parrebbe opera perduta sì per la indegnità della lingua come per l'angustia di termini dentro a quali col suo linguaggio è rinchiusa l'Italia vana estimando la impresa dello scrivere e del parlare in maniera che non l'intendano gli studiosi di tutto il mondo ma quello che non è stato veduto da me spero dover vedere quando che sia chi nascerà dopo me e a tempo che le persone certo più dotte ma meno ambiziose delle presenti degneranno d'esser lodate nella loro patria senza curarsi che la magna o altro strano paese riverisca i loro nomi che se la forma delle parole onde i futuri filosofi ragioneranno e scriveranno delle scienzie sarà comune alla plebe l'intelletto e il sentimento di quelle sarà proprio degli amatori e studiosi delle dottrine le quali hanno ricetto non nelle lingue ma negli animi di mortali già sapparecchiava messer Lascari alla risposta quando sopravvenne brigata di gentiluomini che venivano a visitarlo da quali fu interrotto l'incominciato ragionamento perché salutati l'un l'altro con promessa di tornare altra volta il Peretto e io con lui ci partiamo così bene mi difendeste con l'armi del maestro Peretto che il pormano alle vostre sarebbe cosa superflua per la qualcosa avvegna che il parlare intorno a questa materia fosse vostra professione non di meno io mi contento che vi tacciate ma del soccorso prestatomi parte dall'autorità di così degno filosofo parte dalle ragioni antedette io ve ne rendo infinite grazie e vi prometto che per fuggire il fastidio dello imparare a parlare con le lingue de morti seguitando il consiglio del maestro Peretto come son nato così voglio vivere romano parlare romano e scrivere romano e a voi messer Lazzaro come a persona d'altro parere predico che in Darn tentate di ridurre dal suo lungo esilio in Italia la vostra lingua latina e dopo la totale ruina di lei sollevarla da terra che se quando ella cominciava a cadere non fu uomo che sostenere ve la potesse e chiunque alla rovina soppose a guisa di Polidamante fu oppresso dal peso ora che ella giace del tutto rotta parimente dal precipizio e dal tempo qual atleta o qual gigante potrà vantarsi di rilevarla né a me pare se ai vostri scritti riguardo che ne vogliate far pruova considerando che il vostro scrivere latino non è altro che uno andar ricogliendo per questo autore e per quello ora un nome ora un verbo ora un adverbio della sua lingua il che facendo se voi sperate quasi nuovo esculapio che il porra insieme cotai fragmenti possa farla risuscitare voi v'ingannate non vi accorgendo che nel cadere di sì superbo edificio una parte divenne polvere e un'altra d'è esser rotta in più pezzi li quali volere in uno ridurre sarebbe cosa impossibile senza che molte sono d'altre parti le quali rimase in fondo del mucchio o involate dal tempo non son trovate da alcuno onde minore e men fermare farete la fabbrica che ella non era da prima e venendovi fatto di ridur lei alla sua prima grandezza mai non fia vero che voi le diate la forma che anticamente le dierono quei primi buoni architetti quando nova la fabbricarono anzi ove soleva esser la sala farete le camere confonderete le porte e delle finestre di lei questa alta quell'altra bassa riformarete ivi sode tutte e intere risurgeranno le sue muraglie onde primieramente s'illuminava il palazzo e altronde dentro di lei con la luce del sole alcun fiato di tristo vento entrerà che farà inferma la stanza finalmente sarà miracolo più che umano provvedimento il rifarla mai più uguale o simile a quell'antica essendo mancata l'idea onde il mondo tolse l'esempio di edificarla perché io vi conforto a lasciar l'impresa di voler farvi singolare dagli altri uomini affaticandovi vanamente senza provostro ed altrui perdonatemi gentiluomo voi non poneste ben mente alle parole del mio maestro peretto il quale non solamente non ricusava come voi fate d'imparar greco e latino anzi si lamentava d'essere a farlo sforzato desiderando una età nella quale senza l'aiuto di quelle lingue potesse il popolo studiare e farsi perfetto in ogni scienzia la quale opinione io non laudo né vitupero perché quello non posso questo non voglio dico solamente non essere stata bene intesa da voi onde la deliberazione vostra non avrà origine né dall'autorità né dalle ragioni ma dal vostro appetito lo quale seguite quanto che altrettanto io farò del mio che se l viaggio che io tengo è più lungo e più faticoso del vostro per avventura non fia sì vano e al fine della mia giornata a buono albergo sano quantunque stanco mi condurrà messer lazaro dice il vero e v aggiungo che il peretto in quell'ora come a me pare disputò delle lingue avendo rispetto alla filosofia e altre simili scienzie perché posto che vera sia la sua opinione e così bene potesse filosofare il contadino come il gentiluomo e il lombardo come il romano non è però che in ogni lingua egualmente si possa poetare e orare conciò sia cosa che fra loro l'una sia più e meno dotata degli ornamenti della prosa e del verso che l'altra non è la qualcosa fu tra noi disputata dapprima senza far parola delle dottrine e come allora vi dissi così vi dico di nuovo che se voglia vi verrà mai di comporre o canzoni o novelle al modo vostro cioè in lingua che sia diversa dalla toscala e senza imitare il petrarco e il boccaccio per avventura voi sarete buon cortigiano ma poeta e oratore non mai onde tanto di voi si ragionerà e sarete conosciuto dal mondo quanto la vita vi durerà e non più conciò sia cosa che la vostra lingua romana abbia vertù in farvi piuttosto grazioso che glorioso fine del dialogo delle lingue di sperone speroni grazie